Benvenuti a tutti in questo nostro nuovo video Benvenuti a tutti in questo nuovo video Benvenuti a tutti in questo nostro nuovo video Benvenuti a tutti in questo nostro nuovo video dove vi svegliamo il dietro le quinte, il backstage di Boss del Recupero Dovete sapere che nel 2020, nel periodo Covid ci siamo prestati ad amici e parenti per svuotare cantine, magazzini, capannoni, soffitte e con tutto questo materiale che abbiamo recuperato, rivalorizzato e anche restaurato ora non sappiamo più cosa farne e dato che il materiale che abbiamo è tanto e non sappiamo più dove metterlo abbiamo deciso così di coinvolgervi nella vendita dei nostri prodotti sperando anche di venderne alcuni e poter sostenere così le nostre spese di YouTube e adesso ve li mostriamo un po' tutti iniziamo da questo bellissimo divano questo è un divano degli anni 50, restaurato completamente infatti Boss del Recupero è perché recuperiamo il materiale e lo restauriamo diamo valore e questo è un ottimo pezzo che è stato presente nel nostro licheno selvaggio lo vendiamo al prezzo di... 300 euro ma dato che siete voi chi offre? seguiteci in Instagram scriveteci in Instagram questo potrebbe essere un bel pezzo una bella occasione per voi ricordiamo anche che questa è stata recuperata rivalorizzata pitturata e questa è una palma di banano quindi se vi interessa una palma di banano ecco una palma di banano qua cosa abbiamo Giorgio? qua abbiamo un tavolo creato da noi con pezzi di recupero unici esatto partiamo dalla base di noce una lampada floss completamente originale ricamata in cartogesso all'interno una lampada che cambia colore RGB grazie al telefono e in wifi potete avere anche la vostra app per creare diciamo l'atmosfera che volete nel vostro salotto sopra abbiamo plexiglass sì questo è il plexiglass installato in modo tale da avere un bel tavolino versatile per più occasioni e molto originale tutto fatto su misura questo al momento è un pezzo unico e non è in vendita a meno che ci sia un'asta esatto se lo volete contattateci comunque abbiamo questo bellissimo tavolo anni 40 molto bello restaurato e riverniciato da noi da noi esatto fatto in casa ha una funzionalità molto particolare che è circolare il prezzo commerciale di questo tavolo è di 350 euro ma solo per voi lo vendiamo a 288 euro quindi se qualcuno ci scrive sempre in Instagram contattateci su Synapsi SNC o magari direttamente sul mio profilo Instagram Giorgio Synapsi e di sicuro avrete la miglior valutazione per potervi portare a casa questo gran tavolo un pezzo unico o anche diciamo dividersi lo potete anche sfruttare per varie occasioni magari metterlo a muro eccoci con la nuova magia se abbiamo bisogno di due tavoli a mezzaluna ne avete due quindi in realtà noi mi stiamo vendendo due tavoli in uno esatto quindi 288 per tutte e due 144 a cote ed è un bellissimo tavolo restaurato antico e unico nel suo genere perché così non avete nessuna soluzione se avete bisogno di provare gli spazi in casa lui mangia di lì e io mangio di qua se avete da litigare se ha litigato con la moglie sapete come può la soluzione ok scusa sì la soluzione è quella avete bisogno di un tavolo quindi oggi vi proponiamo un bellissimo tavolo di modernariato quello che vedete qua davanti questo bellissimo tavolo modernariato anni 60 che abbiamo al valore di 300 euro ma solo per voi lo vendiamo al prezzo di 249 euro compratelo se no lo compro io esatto Giorgio lo mette in cantina no in cucina adesso vi facciamo vedere questo bellissimo tavolo in ciliegio con un bellissimo cristallo direttamente incastonato all'interno del tavolo un pezzo anni 2000 quindi ritorniamo sul moderno mangi comodamente in 6 è bello solido in omaggio un bellissimo omaggio sempre in vetro dove potete metterci un po' quello che volete dalla frutta un bel centro tavola che si può abbinare perfettamente col cristallo del tavolo col colore rosso del ciliegio quindi se volete questo bellissimo tavolo a 250 euro contattateci oppure se lo volete a 249 scrivete su instagram a Giorgio esatto avete ancora un euro di sconto ora vi mostriamo una botte bellissima appena restaurata con colori molto vivaci bianco e verde che spericoliamo apposta per voi facciamo questo unboxing che soddisfazione senti come i prodotti nuovi esatto profuma di nuovo se volete questa bellissima botte il legno pitturata di bianco con le sue fasce verdi la vendiamo al prezzo di 250 euro ma per voi la vendiamo a 199 euro questo è un bellissimo pezzo di arredamento compatibile con tante situazioni tiene l'acqua è una caduce originale quindi è un pezzo francese potete sfruttarla in vario modo nel tavolino magari nel cortile la mettere in un ingresso sta molto bene e quindi diciamo è molto versatile esatto è versatile per molte occasioni adesso passiamo al prossimo prodotto eccoci qua seduti su queste due bellissime poltrone in pelle nera le abbiamo recuperate in una casa sono molto comode una casa signorile perché effettivamente sono state utilizzate in una casa signorile le abbiamo usate per le prime interviste a buona la prima quindi andate a vedervi tutti i video di buona la prima con Natalino con Robi Pergola con il sindaco con Big Rocket con tanta gente le vendiamo a coppia che non si vede ma sono differenti hanno il bordo diverso perché una è da uomo e l'altra da donna il valore commerciale è di 600 euro ma per voi le vendiamo a 499 euro quindi se vi interessano queste due bellissime poltrone contattateci naturalmente queste poltrone se avete già visto i nostri video sapete cosa fanno ma per chi non l'avesse mai visto eccoci in una versione relax non riesco più a farlo non riesco più a farlo che poi sembra che è rotto ma è aperto se non è Gio c'è la levetta non mi ricordavo mi sembra che sia rotta no funziona queste sono bellissime in cuoio tenuto molto bene non hanno righe non sono tagliate e hanno veramente un ottimo valore di mercato non per ultimo abbiamo un pezzo raro perché dietro Giorgio abbiamo un pezzo unico che ha un valore nettamente maggiore al poltrone sia di funzione che di praticità quindi vi mostriamo un robot un braccio robotico un braccio robotico staubli molto particolare che chi ha la passione di elettrotecnica potrebbe comprarsi l'abbiamo recuperato in un magazzino un magazzino molto particolare un magazzino robotico e ora per voi vi mostriamo questo braccio robotico vi mostriamo un braccio robotico staubli questo è il braccio robotico questa diciamo la centralina dove c'è la scheda madre e tutti i comandi del braccio robotico qua abbiamo anche la sua tastiera che vado a recuperarla perché è molto figa se riesco sembra un joystick per chi servisse abbiamo anche questo bellissimo pezzo che veniva utilizzato per pulire le testate del robot compreso con il braccio robotico abbiamo anche la sua tastiera che sembra un mega joystick della playstation diciamo questo robot ha il valore commerciale di circa 1500 euro ma per voi lo vendiamo a 999 euro adesso vi mostriamo queste due splendide poltrone anni 70 in pelle molto solide eleganti molto signorili con borchie all'interno legno cuoio leggermente usurato ma al tempo lo dimostra sono ristrutturabili quindi se volete acquistarle comunque rifolderare cambiare comunque il colore delle poltrone potete farlo per voi abbiamo un prezzo speciale possiamo venderle a 150 euro la coppia quindi 75 euro poltrona un ottimo affare c'è anche usarle per shooting fotografici comunque foto di famiglia perché comunque sono molto scenografiche queste poltrone infatti con la gamba alzata hanno un altro rispetto sembri un nobile comunque sono veramente comode se vi interessa lo potete anche provarle ah sì questo sicuramente se ci contattate vi ospitiamo volentieri tant'è vero che chi lascia il commento più bello sotto questo video ed è polliciato quindi tanti like può avere la fortuna di venire a trovarci in questo bunker dove teniamo il materiale e può venire a visitarlo quindi commentate e potete vincere un bellissimo tour un'altra cosa che vendiamo è il nostro merch quindi abbiamo delle magliette con Synapse X e anche queste sono in vendita non abbiamo ancora il nostro e-commerce ufficiale ma se trovate in modo di contattarci potete prenotarle ed averle subito disponibili al prezzo di 20 euro una bella maglietta con l'olgo con il nostro logo Synapse per ora in tinta unita o nera giusto perché stiamo vendendo tutto vendiamo anche il merch eccoci un altro posto un'altra location un altro set questo è il tavolo di Licheno Selvaggio del quale abbiamo fatica un po' a liberarcene dato che è una creazione nostra con vari materiali differenti tra cui l'argento puro perché questo è puro argento terra e vernice quindi un rittico un po' particolare un tavolo originale quindi se qualcuno è interessato a questo tavolo arriva Giorgio il prezzo non ve lo diciamo perché è proprio qualcosa che venderemo solo se qualcuno ha veramente interesse in questo pezzo e soprattutto deve essere iscritto al nostro canale questa è la base esatto iscrivetevi al canale iniziate a iscrivervi per poter fare affare con noi esatto perché questo tavolo ha un valore per noi effettivo molto alto perché l'abbiamo usato in tutti i podcast di Licheno Selvaggio quindi se non avete visto Licheno Selvaggio andate a vedere la playlist che vi mettiamo qua sopra cliccate andate a curiosare un po' di nostri video e dopo questo vi salutiamo ci vediamo al prossimo video grazie di tutto e buona giornata a tutti alla prossima iscrivetevi al canale non dimenticatevi a presto ciao 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 Grazie a tutti.